Speramente che un Dio immenso e buono si fa bambino per amore nostro. Ogni anno questo avvenimento che ce l'abbiamo ci pensa a qualche aspetto nuovo che non ne avevamo mai scoperto e che ci studisce. Questo spettacolo teatrale e musicale, oltre a farci riflettere sul senso della nascita di Gesù, ci riporto indietro nel tempo, poiché per sentirsi vivi e protagonisti del proprio futuro bisogna scoprire il proprio passato e cercare il filo conduttore che ci aggancia alle nostre tradizioni. Questo momento spettacolare teatrale intitolato Tre pastori e una culla vede come protagonisti e simpatici pastorelli alle veste con i loro problemi quotidiani. È come una strana culla di legno che compare nei luoghi e nei momenti più impensati, la stessa culla che alla fine accoglierà Gesù appena nato. Prestate un po' di attenzione e rivivete con noi questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon divertimento! Grazie! 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 Grazie!